Non sono venuto da solo, mi sono infiltrato tra di loro. Erano nel posto sbagliato, ma con le informazioni giuste. Sì, è molto bello in tutto il periodo. Trova una cosa molto interessante nella miniera. Ho il pacco ragazzi, dov'è? Da un po' che non si vede. Dimmi. Ah, ti ho trovato? Non sono così difficili da trovare, tu sei più difficile. Ho il pacco, dai vieni che lo apriamo. Arrivo. Lettere sullo schermo. Apriamo? Apriamo. Tu non avevi mandato a preparare gli schemi. Se lo giri però... No ragazzi, no. Il mio contatto di Minsk dice che tutto quello che è sopravvissuto alla guerra è questo disegno. E come dovrebbe aiutarci? Se non ci dice qua a me, ci dirà dove. Sembra che avrebbe convergere tutto qua al centro. Peraltro è evidente un effetto lente. coordinate. E' una mappa, lo sapevamo già. No, già cambiate di strada di riferimento. Ci riesci? Così va meglio? Sai dirci dove si trova? Guardate la macchina. Andiamo. Prendi gli attrazi. Ti aspetto all'auto. Prendi gli attrazi. Ti aspetto all'auto. 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 Grazie.